Ciao, sono Francesca, benvenuti nel mio laboratorio artigianale. In Roma, sono solo una uova che fa scopi. In Italia sono due uomini, tre uomini, perché questo è un lavoro di uomini. Questo lavoro è molto freddo e molto forte. In Italia sono due uomini, sono due uomini, sono due uomini. Sono due uomini, sono due uomini, sono due uomini, sono due uomini, due uomini, due uomini, due uomini. È davvero l'uomini, un'uomini, un'uomini di uomini. In realtà, rispetto alle cose che sono in lezioni normali, lezioni di uomini, questo sarà molto meglio, perché credo che la qualità dell'uomini, la colora, tutto, non è come una cosa commerciale, non. Non lo faccio personalizzato. Tu scelgo le cose, e mi piace molto la qualità. La qualità è davvero molto buona. Mi piace il mio lavoro con materiale e il design. Mi piace questa esperienza con i turisti. Ti prendi i sandali nel mondo, in Germania, in Spagna, in America, in Australia, in Japone, nel mondo. Mi piace condividere la mia passione per l'artisan lavoro, con persone, da tutto il mondo. Lo consiglio a tutti i miei amici, tutte le persone. Potremmo lo mettere nel mio Instagram, anche nella mia esperienza. Perché davvero mi piace l'esperienza. Quando vieni a Roma, passa a trovarmi nel mio laboratorio. Grazie. 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 Grazie.